Ciao a tutti Artenauti e bentornati sul mio canale. Ecco la pillola di oggi, ma prima sigla! Perché la Gioconda è in Francia? Molti ritengono che la Gioconda sia stata portata in Francia dai Napoleonici. Fu invece lo stesso Leonardo a portarla in quel paese, dove peraltro morì. Il re Francesco I la pagò 4.000 scudi d'oro, equivalenti a due anni di stipendio di Leonardo. Le truppe napoleoniche non sono comunque prive di colpe, si fregarono più di qualche manoscritto dal genio toscano, senza mai restituirli.